Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa trentunesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di Dell. Dell questa settimana ha annunciato il nuovo XPS 13 Devil Go Per Edition 7390. Si tratta del nuovo prodotto di punta della serie Devil Go Per Edition che ricordo offre Ubuntu LTS preinstallato, viene rilasciato in due edizioni con processori i5 e i7. I processori quest'anno sono una grande novità perché fa uso dei nuovi processori Intel di 10, una generazione che sono stati presentati proprio da pochissimo, la variante i5 è a 4 core e la variante i7 è a 6 core. La variante i5 debutterà in Europa e negli Stati Uniti a partire dal 5 settembre, la variante i7 verrà rilasciata verso il mese di ottobre. Su Marcosbox trovate la scheda tecnica con tutte le informazioni su questo nuovo ultrabook molto prestante prodotto da Dell. Restando in ambito computer, questa settimana ho pubblicato la quarta puntata della rubrica Il mio setup dove voi e voi potete condividere la vostra postazione informatica. Questa settimana Gabriele ci ha mostrato la sua postazione informatica e il suo Ryan Book su quale fa girare Sogus. Sogus riconoscete la distribuzione, una distribuzione molto alternativa, non tutti la utilizzano, ma comunque ha un bel layout, una serie di chicche nel suo desktop environment sviluppato in casa che piacciono a molti utenti. Vi ricordo che potete condividere le vostre postazioni informatiche inviandomi il tutto tramite mail che trovate all'interno del blog, tramite la pagina Facebook, tramite il canale Telegram. Quindi a voi la scelta. Questa settimana c'è stata una polemica da cui poi ho fatto un piccolo post, dal tono leggermente polemico anche lui, riguardo GIMP. GIMP è stato fatto un fork di GIMP, chiamato GIMPSE, quindi un nome che è ancora peggio di quello originale. Perché è stato fatto questo fork? GIMP di per sé, il termine GIMP è un termine che è un acronimo, quindi sta a significare GNU Image Manipulation Program. GIMP però, nella lingua inglese, significa anche cordoncino, quello lì praticamente quello che si fa sui vestiti e quant'altro. Ha però anche un significato offensivo nel slang americano, quindi nella lingua americana viene utilizzato per insultare un individuo che non è in grado di svolgere un compito. Questo problema di GIMP se lo porta dalla nascita, da quando è stato rilasciato appunto vent'anni fa, circa vent'anni fa se non ricordo male. Periodicamente, torna Gary Bart, periodicamente, giustamente, i developer di GIMP dicono, è stacce. Il nome è quello, abbiamo anche una certa indicizzazione, un certo brand che si è costruito nel corso degli anni con la parola GIMP, quindi se voi cercate GIMP su internet, trovate il programma di editing immagini, non trovate quelle cose scabrose, del doppio significato del termine GIMP. Non vi invito a cercare, non lo fate, perché dovete aggiungere un'altra parola per poter far uscire quelle cose. Comunque, dicevamo, il team di GIMP non vuole in nessuna maniera cambiare il nome, da qui l'idea di alcuni utenti di fare un fork, che di fatto è un fork 1 a 1, con un semplice rebrand del nome del programma, quindi non troverete più GIMP in questo fork, ma troverete GIMP come nome, ma il resto resterà tale e quale a GIMP. GIMP, gli sviluppatori hanno promesso in futuro di mettere mani all'interfaccia grafica, ma onestamente poco ci credo, anche perché si sa bene come succedono quando ci sono questi tipi di fork che nascono da delle motivazioni sbagliate, non ci sono sviluppatori in grado di seguire il progetto e quindi alla fine si finisce per arenarsi, si finisce per estinguersi da solo. Io onestamente sto dalla parte del team di GIMP, per me non è necessario un cambio di nome, gli sviluppatori di GIMP invece ci tengono a questa cosa perché a detta di loro non viene utilizzato GIMP in scuole o istituzioni o aziende per via di questo doppio senso che può scaturire nello slang americano. Io onestamente non credo che sia questo il vero motivo per cui non venga adottato GIMP, però tant'è. Loro credono che sia questo e loro ritengono opportuno di rilasciare questo fork. In settimana c'è stata una grande notizia per Marcos Box, finalmente sono stato accettato su Apple Podcast, quindi a partire da ieri, praticamente da giorno 26 agosto, per la gioia di grande e piccini potrete ascoltare i podcast di Marcos Box anche su Apple Podcast, quindi sono ufficialmente venduto l'anima alla grande miga e mi è stata chiesta da diversi utenti quindi vi ho contentato, quindi adesso potete trovarmi su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, TuneIn, Amazon Alexa con la skill dedicata che vi ricordo potete aggiungere al vostro sommario quotidiano e naturalmente trovate i video YouTube che sono soltanto dei video audio, quindi ve li potete sentire come preferite. Ultima notizia della settimana è il rilascio della Beta 1 di MX Linux 19. Questa distribuzione è salita alla ribatta tra gli utenti amanti di XFSA nell'ultimo periodo vuoi anche per la notorietà che ha acquisito su Distort Watch. È stata annunciata questa prima Beta di questa nuova versione di MX Linux basata su Demian 10 che vede l'arrivo di XFSA 4.14, l'ultima migliore resi di XFSA che, come vi ricordo, è uscita lo scorso 12 agosto dopo 4 anni e 5 mesi di sviluppo. E chiudo una parentesi, il team di XFSA ha promesso per il futuro degli aggiornamenti più rapidi quindi la 4.16 in teoria dovrebbe uscire tra 6 mesi. Speriamo che riescano a stare al passo. Comunque, tornando a MX Linux, se volete provarla, all'interno del blog trovate i changelog o tutte quante le novità che trovate su questa nuova versione, questa Beta di questa nuova versione e ovviamente il link per poter scaricare la ISO. Ovviamente vi ricordo che essendo una versione Beta non è adatta all'uso quotidiano quindi se incontrate bug e quant'altro, sono problemi vostri. Con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Mi raccomando, iscrivetevi al podcast. Se avete Alexa, iscrivetevi con Alexa e mettete un commento perché ho bisogno di commenti positivi per la skill Alexa altrimenti praticamente non c'è un 0.6 quindi non vorrei stare lì a fare il voto da solo o chiedere a parenti e familiari di farlo. Fatelo voi. Perché ho visto che la skill viene utilizzata quindi visto che è utilizzata non fate i timidi mettete un commento, mettete una votazione. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci sentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!